È possibile passare da Brunzo o da Rial utilizzando solo i cecchini su Fortnite Questa è la sfida di oggi e per questo motivo ho chiamato il mio amico Janksy Che a differenza mia potrà utilizzare le armi normali Eh sì, Gabriele, posso utilizzare le armi normali mentre tu sei come sempre uno sfigato e non puoi utilizzarle Ma ti carierò come sempre, dai che la vinciamo Eh, ok, allora, guarda, fammi fare anche qualche kill perché lo scopo è quello di portarsi a casa dei kill anche col cecchino Ma guarda, cioè tu già non le fai di normale, cioè col cecchino come fai? Me lo spieghi Eh, no Cioè non sei capace di normalmente e tu me le vuoi fare col cecchino Vabbè, non mi faccio domande, io gioco e basta, ci ti carierò fino ad arrivo Allora, la cosa brutta è che qua ci sono le armi che non posso prendere Atterrami vicino perché non voglio morire Qua non ci sono armi, non ci sono, no, no, le altre armi ci sono, non ci sono cecchini Ti prego, prima, cioè adesso dammi il cecchino Questo non è un cecchino Eh, ragazzi, partiamo dal presupposto che qui sotto da me ci sono degli avversari, me li vado Eh, te li fai di da solo, non ho il cecchino, non posso farci nulla Oh, quando ci sono il primo, oddio, oddio piccolato Madonna, piccolato è umiliante, eh Mi stanno sparando e io non posso sparare loro Non ci credo, questo non è, cioè Ti prego, vieni da me, vieni da me, vieni da me Guarda, capire, per me puoi tranquillamente creparci, cioè dov'è che sei? Dov'è, mi tieni, ti dovi dei cildini No, no, ce l'ho le cure, ce l'ho E intanto ballo Ragazzi, lasciate un like e iscrivetevi al canale se anche voi pensate che i cecchini sono forti Ma non si può giocare solo con i cecchini Allora, perché lo stai facendo, cioè, stai stupido È una challenge, genio Ah, una challenge, giusto Però mi sento quello che è piccolo qui, ma è, oddio, morto Aveva un cecchino? Purtroppo, gente, dico che non ce l'aveva un cecchino, quindi no Non puoi fare niente, cioè, mi dispiace Un cecchino, ho bisogno di un cecchino, mi blocchi pure Eh, fai schifo, cioè, non ci posso fare niente Dai, te lo faccio un regalo, guarda, guarda che cosa ho trovato Ho trovato una, ho trovato una roba per te Hai trovato un cecchino? Sì Dei serio? Vieni quella che dà un troppo, dai Vieni Ovvia di sta aerea che non lo puoi neanche usare Ci avevo creduto Ma com'è possibile che non ti ha un cecchino? Ragazzi, io me lo sento, questa è la cassa giusta Non era la cassa giusta Dove vuoi andare con quella moto? A uccidere i polli e a trovare un cecchino per te Già sono scrasso normalmente, immagina col cecchino Ah, dammi un cecchino Ma io i cecchino, non ci credo di aver con il mie chino da cecchino Ora che ci penso, un unico metodo per trovare un cecchino è quello di andare nei bunker I bunker spawnano a metà partita Ragazzi, questa è la cassa buona, dai Ti prego, questa è la cassa fortunata No, la mitraglietta, no, fra Ma aspetta, io la devo andare a faitare da solo Perché il mio amico sta facendo una challenge da stupido E quindi Allora, non faitare da solo Anche perché io ho delle granate che posso utilizzare Utilizzare le granate? Peccato che io stia già andando a faitare questi ragazzi con la medaglia Che mi scioglieranno Oddio, mi push, ho quasi morto uno, Gabri Se me li faccio uno contro due sono dei dischi No, tu sei scarso di tuo Stai giocando contro il bot da bronzo, è normale Questo è ora, non è bronzo Seconda cosa, mi sono dimenticato di ricaricare il pompa e sono morto, cioè Aspetta che questo lo uccido Ne ho ucciso uno, dai Ma non ne ho ucciso uno, ho morto uno Perché lo prendo a piccone Non ce la farai Ho piccone, no E non aveva nemmeno lui un cecchino Un cecchino, un cecchino Non ci credo È la R No, Gabri, però ero attico io Cioè, non puoi trollarmi anche a me Io penso, vabbè, magari l'ha trovato Però non l'ha manco trovato Cioè, se avessi scarso Ti prego questa cassa Mi devi dare un cecchino Ragazzi, devono rimuovere gli AR Cioè, questi AR li devono rimuovere Quando una persona fa la challenge dei cecchini Ho trovato una deagle Pensi che la deagle possa andare lo stesso bene? Eh, teoricamente lo sei colpito del cecchino Quindi potresti fare questa eccezione Va bene, dato che per ora non trovo nessun cecchino Possiamo andarlo Ma là c'è il bunker Andiamo subito verso il bunker Che l'aprendo tutti i cecchini Ok, finalmente siamo nel bunker E c'è il cecchino No, non ci credo Se non lo troviamo nelle case Non c'è un cecchino sul serio Perché qui neanche c'è un cecchino Dai, non è possibile No, no Non è possibile Non ci posso credere neanche No, ragazzi, non è possibile Non è possibile Non abbia trovato il cecchino Oh, ma c'è uno Oddio, con la deagle Con la deagle Con la deagle Non è del tutto un cecchino Ma comunque usa le cose del cecchino Quindi utilizziamo la deagle per ora Guarda, capi Non hai neanche trovato il cecchino Ma io ti voglio togliere anche È l'unica gioia Mi ha ucciso uno Quindi io lo vado a uccidere Oh, mi è stattato addosso Vabbè, dai, l'ho ammazzato È troppo scarso Non come me Che sono fortissimo Ma dove stai andando? Ma togli tu Non è che per caso Aveva un cecchino? Ma guarda qui No, neanche lui aveva un cecchino Mi dispiace dirtelo Ma ste cose chi te le fa? Guarda come è pinto, cioè Non ci credo È la quarta volta che ho tu un DMR Vabbè, mi sa che questa partita Si fa solamente con la deagle A quanto pare Ragazzi, appena finisce questo video Vado a fare una denuncia a Fortnite Che non troviamo il cecchino Allora, Genzi Io direi di andare a pusciare Quelli col medaglione Che potrebbero avere Un possibile cecchino Oddio, capiamo la medaglia Aspetta che li vado a uccidere Che non come se Vabbè, sei scarso Cioè, neanche serve dire Stanno laggiù nella casa Oddio, ma che casa? Sono nella macchina Anzi, sono là fuori Sono appena scesi 30 bianco Ma com'è che non muo... Bam 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 Distrutto, ragazzi Ragazzi Morto uno Craccato Morti tutti Vediamo se avevano un cecchino Avevano un cecchino Oddio Ci credo Ci credo Ce l'avevano Guardalo E me lo prendo No, no Il mio cecchino Dammi subito il cecchino Tieni il tuo cecchino Dai C'è che sei scarso Finalmente il cecchino A metà partita E tiene il micro di me Aspetta che c'è altra gente Infatti ne vedo un altro Lasciami qualche kill Lasciami qualche cecchino Bam 121 Sì, sì Mentre tu lo cecchini Quanto mi ha laserato Perché ti stavo mostrando Io ho fatto 121 Zitto, io ho fatto 121 Lo pusho No, lo devo fare di no scoop Lo devo fare di no scoop Non mi interessa Ma quale no scoop Ma vieni qua Faccio 121 kill Dai, mi hai rubato pure questa Com'è possibile che adesso Incontriamo solo gente con cecchini Mi hanno cecchinato Mi hanno cecchini È il mio momento È il mio momento Ma chi è che ti ha cecchinato Mi ha dato Asmetti di rifarmi 127 Voglio proprio rubarti questa kill Oh, me l'ho atterrato Aspetta che lo vado a uccidere Sempre se non lo vuoi cecchinare Adesso ti lascio Non ti lascio un bel Oddio, sei andato in aria 127 in aria Boom, ucciso anche lui col cecchino Hai solo 4 kill Cioè, sei un bidone E ci credo, i cecchini Li ho trovati dopo mezz'ora Oh, mi hanno sparato Non provare mai più a spararmi Adesso ti arriva una cecchinata In bocca Guarda come ti faccio 200.000 Non l'ho hittato 127 Ma la cosa più bella È che quello di prima Manco l'ho hittato Sono talmente potente Per farti capire Ma vuoi sapere Quella è una cosa ancora più bella Che sei veramente scarso Io mi devo da killare E tu invece stai là Con il tuo cecchino È l'unica cosa Posso fare Certo, ti senti a terra L'ho cecchinato da dietro Aspetta che questo però mi spara Cioè, va bene Che ti hanno cecchinato da dietro Prendo il muro 31 Aspetta che lo ammazzo Oddio, lo mi Ma che mira c'ho Mi hanno lanciato le granate Non ci posso credere Non puoi morire Non puoi Ti devo curare Ti devo curare Non posso morire Cioè, non puoi morire Sono rimasto da solo Con solo un cecchino Ce la farai a vincere Io sono abbastanza sicuro Io no Allora fatemi uccidere A questi che hanno Ucciso il mio compagno Che se non merita la morte Però vabbè Ovviamente su Fortnite L'ho missato L'ho missato Lino E non so Cecchinaria Ma c'è schifo Perché ho fatto questa challenge Infatti c'è Secondo me Dovevi farla fare a me Quella challenge Perché Oh Non scup Non scup Senti tutti Non scupato Ma vada Non in tante Non in tante E fermo 120 Dai ti prego Non c'è Ma come è fatta No 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 Ok Junksy Sei carico per quest'altra partita Con solo cecchini No Dopo come è finita l'ultima Sinceramente no Ma la vinceremo lo stesso Quindi non ti preoccupo Anche perché tu non devi usare Solo cecchini E questo sono io Che le devo usare Adesso aprirò una chest Che mi dà le cecchini Scommettiamo Guarda 3 2 1 Capri proprio potessi anche capire Che io sto fightando Quindi se potresti gentilmente Sare di tutto Di un nemico Ti prego uccideteli tutti Perché io ho bisogno del cecchino Morti 2 E mi atterrà anche l'altro che fermo Quindi morti 3 Arriva anche il quarto Quasi morti 4 Morti 4 Addirittura Io che devo fare Non devi fare niente Ci sei scarsa Te l'ho già detto Ragazzi vi ricordo Sempre per sempre Il codice creatore Gabri C'è una persona Appicconata 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 Guarda che scarsa Ti vado anche a rubare La tua unica gioia di killarlo Beh fatemelo usare Ragazzi grazie Stai trasgredendo le regole Vergogna No non sto trasgredendo nessuna regola Oddio Non è No non è Pensavo fosse dei cecchini Cioè c'è una persona Da mio bisogno Totalmente di aiuto Perché non ho cecchini Non è un robot È un AI Aspetta che lo vado a distruggere Oh non è vero Non è un AI È una persona veramente intelligente Peccato che gli ho attaccato la bomba Quindi è morto E non aveva nemmeno un cecchino No ragazzi La ventunissima cassa Che apro Nemmeno un cecchino Nemmeno un cecchino Oh caracest Che sei qui Cildone Medikit Medikit Cecchino Non ha funzionato Ti ruba anche le cure Cioè guarda Gabri vuoi fai stare con me Ah no non puoi Perché non hai il cecchino Aspetta Ma vattene Gabri ha trovato un cecchino Veramente No Oddio Mi avevo shottato Con il follower di Zeus È giunta la mia ora Finalmente da eroe Di scappare a gambe levate Godo Sinceramente godo Cioè più o meno godo Perché mi servirebbe il tuo aiuto Però godo Zitto qua trovo i cecchini Oddio Sì sì Veramente Non c'è credo Non c'è credo Dammi subito Dammi subito Ho tre munizioni Adesso guarda com'è Come li uccido a tutti Ciao Rick Aia Rick Rick teamiamo No 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 Ti prego No Andami scappare Andami scappare Ragazzi devo giocare Di logica Li riuscirò mai ad uccidere Con solo il cecchino No Non ha sparato Non ha sparato Tutti i calcoli sono fatti bene Nel posto dove sto atterrando Ci dovrebbe essere un bot Che vende il cecchino In questo momento Mi sono diviso dal Junksy Lui andrà a fare le kill E io andrò alla ricerca del cecchino Sì sono un carriato di m***o Però fa niente Oddio C'è un player da me Guarda già aveva shield Non so come Però è morto C'è già l'ho ucciso Ti stai facendo carriare Capri Sei veramente scarso No ma non mi direi Che non c'è più il bot Esatto Capri L'hanno tolto Tu sei in una parte dispersa Della mappa senza niente E cosa trovo come prima arma? Non è possibile che hanno tolto Questo bot Che c'era fino all'altro giorno Capri ma davanti a me Ci sono dei nemici Quindi vedi di stare zitto Già ho una mira da polli Sinceramente se ci muori Godo Cosa hai contro i polli? Non credo che abbiano Una buona mira i polli C'è semplicemente questo Però aspetta che sento pompate Oddio Aia Che male Che male Fermi Fermi ragazzi State fermi Ho trovato pure il pompa dei desideri Ma che pompa dei desideri Che sono morto Capri Ma sono un pro player Non ci muoio Non ti preoccupare Oddio mi sta venendo a pusciare Capri Non posso farci nulla Sono l'altra parte della mappa Morto Che pensavo ci fosse il bot Ma è ucciso attraverso Ma è ucciso attraverso Ma non è possibile Non funziona così Ok ragazzi Sono rimasto da solo Perfetto Mi tocca portare a casa questa vittoria Col cecchino Non ci riuscirò mai Secondo me una vittoria col cecchino Riuscirei anche a portarla a casa Il problema è trovare il cecchino a inizio game Ragazzi Iscrivetemi qui sotto nei commenti Quante volte trovate un cecchino Mediamente in partita Perché io non li trovo Forse dovrei provare la psicologia inversa Fortnite Non voglio un cecchino Quindi non mi dare cecchini Non mi servo Ma Gabri ce la farai Io credo in te Guarda che luce che c'hai C'hai due Cure Sei cildini E un medikit Cioè che cosa vuoi dire più Un cecchino Le lanci addosso Dai Dai che ce la sa Me lo sento Qua troviamo un bel cecchino Non ci sono le casse Cioè guarda cosa trovo quando cerco il cecchino No non ci credo Allora ragazzi la situazione non è per niente buona perché questo è il mio loot Non ho trovato un cecchino e stiamo miseramente fallendo la sfida di usare solo cecchini Però forse in realtà può anche essere valutata buona perché le partite cecchini lo stesso le usate No fra c'è qualcuno fammi scappare Ma io proprio cecchia piccone Io me lo sento qua da queste parti c'è un cecchino Secondo me no sto giocando a Brawl Stars Però guarda ti auguro di trovarlo sinceramente dato che c'è hai un loot della padonna ti manca solo quel Boom che ti auguro Chess mitica c'è più possibilità di trovare il cecchino qua dentro Daglielo Ma sono sfigato che ci posso fare se non trovo i cecchini Non li trovo Non li trovo il gioco mi vuole male Pensa siamo tipo trovo il brawler Ma mi dicono che questo gioco è bello fa schifo non mi danno i cecchini Una cassa mitica Ti prego ti supprico Ti do 150 euro Ma battelo Cioè Gabri mi dispiace ma sei proprio sfigato Non li troverai mai Lì c'è uno secondo me questo tiene il cecchino adesso lo investo guarda Oddio ma è stupido Guarda tiralo sotto dai c'è Adoro ragazzi L'ho ucciso Non armi Chi è che gioca solo con le pistolette nel 2027 Gabri per il content ti apro la scheda Ti apro la scheda Ti porto fortuna Ci sono delle casse E non ci sono i cecchini Adoro sta troppo leggendaria Legendaria Gabri Ma di Come sta troppo leggendario No proviamo che trovo Ma di che Mendy Che questa trova pure il brawler Io non trovo un cecchino Ragazzi ho pochissimo tempo per trovare un cecchino Se non lo trovo sono fottuto Mi sa che sono morto Grazie del non cecchino Per favore stai zitto che sono in una situazione molto critica Gabri secondo brawler Dimmi che qua c'è un cecchino No non c'è un cecchino Fammi scappare Scappa 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 Faccio la giocata Mi nascondo Mi nascondo Mi hanno visto Mi hanno visto Stato in testa Non è che ti ha visto Ma mi stai seguendo No il fatto è che Il cecchino lo dà Questo cosa Quando la bandiera Lo dà il cecchino Ah i tre medichi Ti ci puoi rimanere anche fino a domani Qua dentro Basta che prendi la bandiera No 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 Non mi sparare Non mi sparare Ho bisogno della bandiera Prendi 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 la bandiera Simo Prendi Prendi Io nemmeno Ti faccio questo Fatemela prendere a me Eh ma la devo prendere a capo Prendila tu Prendila tu Se ne sta andando Se ne è andato Non ci credo ragazzi Mi dà il cecchino Ti prego Non te l'ha dato Penso di vincere la partita Se ne c'è chi No ragazzi Però non è possibile Dai che gioco schifoso Che gioco schifoso Che non mi dà nemmeno Un cecchino E c'è uno Che mi sa che tiene il cecchino Forse qua ci stanno Due cecchini Non ci credo Due cecchini No uno solo Uno solo Oh no Il cechinato Non ci credo Questo qua sopra Ti prego Il tuo momento Ma che è il mio momento È durato poco Questo momento Non lo capito Potrà durare di più No No Abbiamo Abbiamo Miseralmente Feilato questa cosa Ma vediamo che rank Sono arrivato Dammi un rank buono Almeno Un rank buono Il gioco Oro 2 Io capito Sono arrivata argento Cioè non so Se ti rende felice Questa cosa Ma va